La base di partenza dell'Arezzo contro la Lupa Roma sarà il 4-3-3. E' forse questa l'unica certezza al momento. Tra infortuni, giocatori alle prese con problemi fisici ed esigenze dettate dal modulo, la vigilia della sfida con i laziali è ricca di ballottaggi. L'unico punto fermo è il centrocampo. Corradi, De Feudis davanti alla difesa e Foglia hanno convinto contro la Giana e la loro presenza dal primo minuto non è in discussione. Soprattutto con un centrocampo a tre. Borra tornerà in panchina, Benassi ha superato l'infortunio che lo aveva costretto a saltare la sfida di Gorgonzola. Certo di un posto tra i titolari è l'insostituibile Luciani. A sinistra Masciangelo sembra in vantaggio su Sabatino, mentre al centro non mancano le opzioni. Standa quanto visto sul campo, Milesi e Sirri sembrano favoriti con l'ex Alessandria che tornerebbe tra i titolari dopo oltre un mese dall'ultima apparizione nel derby con il Livorno. Muscabelli si è allenato solo da giovedì con il gruppo per non risentire del sintetico. Arcidiacono ha svolto un solo allenamento con la squadra, Yanga ripreso solo oggi a correre. Ecco allora che Polidori viaggia verso la conferma con Berzotti e Durzi, pronti a contendersi un posto a sinistra nel reparto d'attacco. A destra il ballottaggio sarà tra Erpen e Grossi con l'argentino che scalpita per tornare in campo per disputare qualcosa in più di una manciata di minuti. E viste le ultime prestazioni dell'externana un cambio non sarebbe poi così sorprendente. Intanto è tornato ad allenarsi Kevin Yanga per il francese infortunatosi contro il tutto cuoio in Coppa Italia alcuni giri di campo e poi un lavoro a parte sotto lo sguardo del preparatore atletico probabile, ma non scontata, la sua convocazione per il turno infrasettimanale in Casa del Prato. Alla base di alcune scelte di formazione potrebbe esserci quindi il calendario dell'Arezzo che porterà Iamaranto ad affrontare domenica la lupa Roma al Comunale e mercoledì il Prato in trasferta e domenica 11 dicembre la Viterbese in Casa.